Ok, allora cominciamo, quindi innanzitutto benvenuti a tutti, grazie per essere venuti, siamo circa 26 persone collegate e tutto avviene su Zoom, o quasi tutto essenzialmente, quindi mi sentite e mi vedete lì. L'indirizzo di Zoom ve l'abbiamo già dato prima, lo riscrivo per chi volesse e poi vediamo un attimino la situazione su Classroom. Quindi su Classroom voglio farvi vedere appunto che c'è questo sito che è curato da me ma soprattutto da Maria Luisa Faccin, dove potete sostanzialmente vedere un sacco di informazioni, quindi anche i video delle lezioni. Quindi abbiamo, qui avete un documento sul gruppo Facebook, dove c'è sostanzialmente il corso. Ecco, il sito riassuntivo anche lo trovate da qua, quindi da Facebook arrivate sostanzialmente a quasi tutte le informazioni che sono interessanti. Quindi avete questo il sito, il sito si chiama, è su sites Google.com, si chiama Blender Edu3D. E qui su questo sito ci sono svariati materiali, fra cui anche il corso che stiamo facendo adesso, Architettura Blender. Quindi Architettura Blender e poi con tutti i suoi sotto, quindi le video lezioni. Vedete? E quindi qui ci sono primo incontro, secondo incontro, eccetera, eccetera. Allora, su Classroom invece avete tutto il materiale e tutte le lezioni sono strutturate in... quindi abbiamo Architettura con Blender, questo è il nostro corso e qui abbiamo i lavori del corso e qui abbiamo le varie sezioni. Quindi nella sezione attuale abbiamo 4 ottobre, cioè che oggi, Archimesh. Quindi durante il corso di oggi vediamo sostanzialmente Archimesh. Qui a Archimesh ci sono già dei video, tra l'altro qui si vede quante persone hanno consegnato il compito, sono in tre. Vediamo un po' chi sono brevemente. Sono Elisabetta, Giorgio Lampis e Luisa Zonno. Ok. Adesso mi aspetto, adesso mi ho messo come limite l'otto, ma se c'è qualche piccolo ritardo non è un grosso problema. Andiamo invece esplicitamente su Blender e iniziamo a strutturare il... a fare una piccola rivisitazione di quello che è l'Archimesh. Per tutti è chiaro come si fa a installare un add-on che c'è già su Blender? Cioè avete già provato? Avete già seguito? Ah, ecco. Qualcuno ha risposto no. Allora, Blender quando compare all'inizio compare sostanzialmente abbastanza spoglio. Questo perché molte delle caratteristiche di Blender possono non essere usate. Quindi si può usare Blender al minimo. Quindi tra parentesi possiamo anche provare a fare... a fare... tornare da zero. Quindi tornando da zero vuol dire che c'è una possibilità che è quello di carica impostazione di fabbrica. Quando si caricano le impostazioni di fabbrica vedete che torna il Blender originario. Quindi torna in italiano, in inglese e quindi bisogna sostanzialmente rifare tutto il discorso. Lo faccio brevemente, quindi dalle user preferences. La prima cosa, mettiamo la lingua, quindi facciamo... qui mettiamo international fonts, mettiamo italiano, clicchiamo qua, così siamo tutto in italiano. E poi andiamo nei temi. Io di solito preferisco mettere questo tema Science Lab, che è quello che avete visto. E poi ancora mettiamo in interfaccia, mettiamo ruota attorno alla selezione, che uso spesso. E poi ancora la scala, se vi sembra troppo piccolo, la potete mettere un po' più grossa. Io la metto per i corsi a una 25. Per lavorare forse è un pochino troppo grossa, ma adesso va bene così. 95, 97. E così abbiamo fatto la cosa. Salviamo impostazioni utente e quindi da questo momento in poi, quando fate nuovo, vi comparirà automaticamente tutte le opzioni che avete scelto. Quindi apparirà tutto in italiano. Ok. Gli add-on. Add-on sono sempre in preferenza utente, quindi come vedete ctrl alt u. Abbiamo add-ons qua. Gli add-on c'è una lunga serie di add-on già di fabbrica, ma quelli effettivamente caricati hanno un baffetto su questa colonna. Vedete che c'è un baffo, un tic. Sono talmente tanti in realtà questi add-on che diventa difficile gestirli, quindi noi li cerchiamo. Abbiamo una specie di Google interno e l'add-on di cui parliamo ora si chiama Archimesh. Ora Archimesh, non confondetelo con Archipack. Archimesh vuol dire Architecture Mesh e poi c'è Architecture Pack. In realtà ci hanno delle cose simili. Archipack è un pochino più sofisticato, Archimesh è il primo che è uscito, un po' più semplice, ma tutto questo è disponibile su Blender Standard. Quindi se volete usare Archimesh dovete andare qui e cliccare, vedete dove c'è questo quadratido, cliccate, vedete che si illumina tutto, questo omino, e poi dopo se volete avere delle indicazioni, adesso qui non so se funziona, a volte questi link non funzionano, ma sostanzialmente qui c'è la possibilità intanto di sapere chi l'ha fatto, vedete Antonio Vasquez, poi c'è scritto tutta una serie di cose, ma soprattutto vedete che introduce delle cose nuove in View 3D, cioè nella vista 3D AdMesh Archimesh. E poi documentazione se funziona, infatti non funziona. Quindi se volete avere informazioni su Archimesh è meglio direttamente scrivere Archimesh su Google e quindi avete sostanzialmente l'ingresso sul sito. E vedete che come ho fatto vedere su anche i video c'è scritto tutto quello che è possibile inserire. Quindi torniamo qua, abbiamo quindi messo la spunta su Archimesh, salviamo l'impostazione utente e da questo momento abbiamo l'accesso ad Archimesh. Allora nel video ho fatto vedere tutto un giro, però magari rivediamo brevemente alcune operazioni elementari che si fanno in Archimesh. Quindi cancelliamo con la X il cubo. Ok, prima di ripartire, quindi questo primo spiego per installare gli add-on, analisa, ti chiaro, che chiedevi di spiegare. Vedo che mi risponde più. Perfetto. Spero di aver chiarito quindi come funziona. Ecco anche qua, visto che ho fatto il salvataggio, preferenza utente, ho fatto salva impostazione utente, questa operazione non la dovete più fare tendenzialmente, quindi da quel momento lì in poi ti rimane persistente. Allora, diversamente da quello che ho fatto nei video, qui partiamo a vedere come si accede insomma alle funzionalità di Archimesh. Vedete, di primo occhito non si vede qualcosa di diverso, no? Però, se voi andate su aggiungi e poi mesh, vedete che compare un Archimesh. Quindi vedete che tutte queste opzioni sono le opzioni di Archimesh. Quindi possiamo aggiungere un'intera stanza e quindi Room, rispetto al video, Ecco, Room ho visto che è leggermente più comoda perché permette di definire a priori il pavimento, il soffitto. Insomma, è un pochino più completo. Si può aggiungere una porta e si possono aggiungere le varie cose. Allora, proviamo, solo per farvi vedere come funziona. Invece che aggiungere direttamente la stanza, facciamo che aggiungere una finestra, quindi ad Rail Window. Così vi faccio vedere i concetti, le cose importanti degli oggetti di Archimesh. Allora, Rail Window, cosa vuol dire? Rail vuol dire che sono delle finestre che hanno, credo, un scorrimento, che hanno proprio un Rail Saberotaia. Però questo è un po' confusionario perché con le Rail, vedete che se faccio Rail mi compare la finestra. E adesso vogliamo fare una piccola anatomia di questa finestra. Questa finestra intanto compare un po' grigetta con i colori bruttini. Di questo perché chi ha fatto Archimesh, in realtà ha fatto Archimesh pensando a quello che è Cycles. Ed ecco qua in cima c'è un motore che viene indicato vicino proprio al simbolo di Blender, è seguito Render Blender. Io in tutti i miei corsi di solito uso Render Blender, quindi vi ho insegnato a fare Render Blender. C'è una modalità alternativa che si usava, che si è cominciato a usare da qualche anno, che si chiama Cycles. Allora, quando si va in modalità Cycles Render, che non mi va, Aspettate, quindi andiamo in oggetto. Ah, facciamo così perché forse si è bloccato da qualche parte. Riparto dall'inizio, vado in Cycles, ok? Quindi adesso è andato. Perché quando si entra in Cycles Archimesh mette già delle texture leggermente, almeno dovrebbe mettere qualche colore in più. Era giusto così per vedere un pochino più meglio. Ma sulle texture e su Cycles vedremo meglio le prossime settimane. Però adesso vi volevo solo far vedere, insomma, l'impostazione. Quindi entriamo e facciamo di nuovo. Prima vi ho visto che l'oggetto si poteva aggiungere, aggiungi Mesh. Quindi aggiungi Mesh, Rail Windows, e vedete che già la finestra è un pochino più bluetta. Non è molto di più, però, insomma, è leggermente più gratificante della finestrella fatta con Blender Render. Quindi per queste prove con Archimesh vedremo poi dopo che si può usare il Cycles, oppure vedremo anche quella normale. Ok, vediamo un po' come è fatta questa finestra. Allora, quando voi aggiungete la finestra, la prima cosa che vi dice qua vi dà un'informazione. Ecco, qui dovete sempre avere gli occhi molto attenti perché dovete capire tutto ciò che vi dice, no? Quindi vi sta dicendo di usare il pannello proprietà N per definire i parametri della finestra. N vuol dire che se voi siete qua, quindi dovete essere sul pannello centrale, fate N e compaiono automaticamente questa colonnina e in questa colonnina in fondo compaiono. Vediamo un po' se riesco a togliermi. Ok, mettiamolo qua. Anzi, mettiamo addirittura qua sotto, che qui non lo uso. Scusami da fastidio. Allora, qui vedete che c'è scritto Rail Window. Ora, in realtà, quello che probabilmente dà più soddisfazione non è la finestra fatta così, ma bensì la finestra a foglia, la chiamo qua. Cioè, a foglia sono le finestre classiche che si aprono. Quindi abbiamo Left Leaf, vedete che è un finestrello che si apre da sinistra, dice lui, oppure da destra, vedete che quindi cambia, oppure c'è la possibilità di avere la finestra a due, quindi che si apre in un senso e nell'altro. Quindi, così, queste sono le finestre un po' che siamo più abituati a vedere qui in Italia. Mentre invece, probabilmente, le altre finestre sono più diffuse all'estero. Ora, là, a largo così si vede bene. La finestra, oltre ad avere queste proprietà, le potete controllare quante è larga. Quindi vedete che c'è due metri, tre metri, insomma, o un metro, quindi potete controllare quello. Potete controllare la profondità della finestra. Vedete che faccio più o meno. Diciamo che le finestre, di solito, non sono tanto spesso. E potete controllare anche l'altezza, quindi finestra larga oppure molto stretta. Quindi potete fare delle finestre, delle dimensioni che vi interessano. Si possono controllare wind frame, quindi quanto poi esattamente di vetro c'è. E poi quest'altra cosa, rotazione, è molto utile perché si può dire se la finestrella è ruotata tipo i 90 gradi o di 180, quindi a seconda di come si muove, e così via. Cominciamo con la rotazione a zero, che è questa. Il frame, magari lo facciamo quasi il default. Quindi poi qui si può controllare se c'è il frame, cioè quindi la cosa esterna. Se ha le maniglie, direi di sì. Questo. Dimensioni del frame esterno. Insomma, sono tutte. Dovete poi fare un po' di verifiche. E poi qui c'è il seal, che adesso non so esattamente in inglese cosa vuol dire, ma se lo togliete, vedete che sparisce questa specie di appoggio esterno della finestra. E a questo punto potete anche dire quanto è spesso questo oggetto. Qualcuno sa come si chiama in italiano quell'oggetto seal? Se possiamo chiedere anche a Google, così, come dico, seal, window, italiano, finestra del davanzale. Vabbè, sarebbe il davanzale, sì. Secondo me il davanzale è ottimo, Mario Sgrove aveva. Quindi torniamo un attimo a questa cosa, quindi il davanzale. Esatto. E poi abbiamo la possibilità di mettere anche il blank, sarebbero le, vedete che abbiamo tapparella, si dice in italiano, sì. Ok, la tapparella. E la tapparella si può controllare quanto è alta. Vedete che posso sostanzialmente dire che è tutta chiusa, oppure posso dire che è tutta aperta. Poi posso dire se c'è la cassetta sopra, oppure no. Secondo se la volete far risaltare. Potete controllare, insomma, tutti questi aspetti. Quindi sostanzialmente qui abbiamo la finestra fatta, no? Per, voi domanderete, come si fa ad aprire la finestra? Per aprire la finestra bisogna sostanzialmente selezionare la lanta che si vuole aprire. Questo lo si fa in modalità oggetto, non in modalità modifica. Quindi seleziono questa anta. Quindi vedete che quando clicco col tasto destro mi compare window R, che vuol dire che è la parte destra. Se clicco qua mi viene finestra a sinistra. Quindi se clicco sulla finestra, questa qui dove c'è la maniglia, faccio R di rotazione. E poi semplicemente posso, muovendo il mouse, praticamente si controlla. Guardate. Ecco, conviene forse avere il mouse un po' più lontano. Si può controllare esattamente quanto è aperta la finestra. tasto destro per selezionare window R. Poi ci si mette un pochino lontanina, non vicino perché se no non capite niente. Quindi mettete un pochino lontano, fate R e vedete che potete aprire e chiudere come se fosse lì. Ci vede bene, no? Su Zoom. La stessa cosa se volete aprire l'anta a sinistra qua, la selezionate, window L, fate R e potete aprirla. Allora vediamo R così e vedete che aprite l'anta. Quindi potete, questa cosa qua che sembra una banalità, in realtà io ci avevo impiegato un pochino a capire cosa cliccare e come cliccarlo. L'altro qui andate magari in 5, così lo vedete senza prospettiva. 5 è il tassalino numerico. E poi vabbè potete anche vederlo 1 di fronte, 3 di lato. Le solite cose. Comunque questo qui è la cosa fondamentale. Ora, anatomia della finestra. Allora, innanzitutto per capire l'anatomia della finestra andiamo qua. Vedete in alta destra avete una cosa che si chiama, qui dunque, questa finestrella è sostanzialmente la struttura, la struttura della vostra scena. Vedete che lì c'è scritto scena e nella vostra scena sostanzialmente abbiamo un window group. Allora, window group che vedete è sostanzialmente composto da due cose. Da un control hole, lo chiama. Control hole, qui se lo cliccate col tasto sinistro, vedete che vi fa vedere cos'è il control hole. Allora, questo control hole è la parte che poi va a bucare i muri. Questo io ci ho impiegato anche questo parecchio tempo a capirlo. Quindi è semplicemente un oggetto che non serve a niente. Infatti se vi notate qui non c'è scritto, non c'è la fotografia. Quindi fotografia vuol dire che quando si fa la foto non compare nella foto. Però c'è, è un oggetto che purtroppo dà fastidio. Allora, due persone hanno alzato la mano. Cosa volevano dire? Almeno uno ha alzato la mano. Oppure qualcuno l'ha abbassato, non so. C'è qualche domanda su questo control hole? Avete trovato questo finestro in alto destra? Però se non lo trovate lì, comunque non è un grave problema. Perché potete comunque vederlo, nel senso che... Adesso faccio A per togliere la selezione. Vede che se mi avvicino alla finestra c'è una specie di gabbia. La vedi? La vedi, Annalisa? Questa gabbia che è di colore blu? Ecco, questa gabbia qua tu la puoi selezionare semplicemente andando qui vicino e facendo tasto destro. Quindi non c'è bisogno, se vi trovate in difficoltà, a usare questa struttura. Potete anche accederci da lì. Più che altro, il discorso è che da qua si vede chiaramente che c'è un control hole. Mentre invece se cliccate sul secondo, avete invece la struttura della finestra. Allora, il control hole, è importante capire dov'è. perché quel control hole, quando poi, prima di spostare su Sketchfab, quel control hole va levato perché altrimenti diventa reso come un oggetto chiuso, con un muro, e quindi le finestre diventano sostanzialmente murate. Quindi o lo cancellate, oppure come aveva cercato anche di spiegare Annie, o Annie, Annie credo perché è francese, qui vedete in fondo che c'è una specie di tastiera, no? Ecco, questi sono i livelli, i layer, in cui voi potete mettere i vari oggetti. Sono una specie di depositi dove potete lasciare le cose. Quindi se voi avete degli oggetti che non volete vedere, ma volete tenere perché magari vi servono, cosa fate? Cliccate col tasto destro l'oggetto e poi c'è proprio un comandino M, Move, che sposta la cosa che state dicendo su un altro livello. Quindi se io lo sposto, vedete, su questa scacchiera, sul secondo livello, vedete che qui è comparso un pallino nel secondo livello e qui non c'è più, quindi si può togliere. Adesso io, lavorando poi con Sketchfab, non so se prende solo il primo livello o meno, quindi poi chiedo a Nick e lei che ha proposto questa tecnica. posso mettere lo screencast. E dunque lo screencast a trovarlo perché se l'ho cancellato, comunque lo mettiamo un secondo. screencast. Ecco questo qua, space, view, 3D, screencast, keys, quindi, ok, avendo fatto, purtroppo lo screencast fino a qualche versione fa era un add-on che è presente dentro Blender. da un anno circa hanno deciso di toglierlo e quindi mi sono dovuto prenderlo. Comunque, preferenze utente, andiamo sul add-ons qua, facciamo install add-on da file, e andiamo a mettere lo screencast che mi avete chiesto. Ok. L'ha fatto? Sì, vediamo un po' se l'ha messo. Screencast, eccolo qua, screencase. Allora, impostazione utente, usciamo, e quindi mettiamo start display. Start display, e poi qui però facciamo un pochino più grosso, ma non così grosso. Dov'è? Sì, sono stati dei cinghiali loro. Mi va via. Mi scappa. Ok, 24. E come mai lo screencast adesso? Sì, sta in toppa. Ok, adesso avete lo screencast. Quindi torniamo allora, torniamo un attimo qua. Quindi, last move to layer. Allora, noi li facciamo al contrario. Quindi io vado sul, clicco qua e vado sul layer. Vedete questo qui. Il layer, il secondo layer, c'è soltanto questo oggetto, che è il, questo control hole, no? Lo seleziono, poi se faccio M, selezioniamo M, e poi gli dico di rimetterlo sul livello 1. Non me l'ha rimesso tanto. Comunque sostanzialmente questa control box va tolta prima di metterlo su Sketchfab. Comunque adesso abbiamo questa cosa. e il concetto comunque vi è chiaro di che cosa, come si fa per gestire, per tenere sotto controllo questa finestra, che più o meno gli oggetti che facciamo, direi di sì. Analogamente, se prendiamo un altro, un altro oggettino, quindi prendiamo un altro oggettino che può essere la porta, e se vi faccio gli oggettini separati, perché poi quando ci sono le mura in mezzo, tutto diventa un pochino contorto, perché tutto si confonde. Quindi bisogna conoscere un attimino le strutture con cui abbiamo a che fare. Allora, aggiungiamo un altro Mesh. Tra l'altro, queste aggiunte che vi faccio vedere le trovate anche qua su Crea. Quindi su Crea, potete andare giù e vedete che c'è la parte di Archimesh e qui abbiamo varie cose. Quindi abbiamo la Rail Windows, potremmo aggiungerla da qua. No, in realtà, facciamo così, facciamo un nuovo, solo che non c'è il display, facciamo un'altra cosa. Facciamo, selezioniamo tutto, cancelliamo la finestrella, ok, e poi andiamo invece a inserire il, un, eh, facciamo un cabinet, i cabinet. Ma i cabinet, vedete che abbiamo questo che è il cabinet e qui questa volta le caratteristiche del cabinet, invece di essere sulla destra, guarda un po', per complicare la vita a noi altri, ci hanno messo le caratteristiche del cabinet sulla sinistra. Quindi fate attenzione a quello che c'è scritto qua. No, il cabinet, qui vedete che c'è scritto da pavimento oppure da muro. Questo ha un senso quando ci sarà poi il muro, nel senso che se da pavimento lo mette in basso sul pavimento, vedremo dopo, se no lo mette come pensile. E poi ci sono tutte le sue caratteristiche, quindi potete farlo più o meno profondo, l'altezza, potete farlo più o meno alto, no? Quindi potete fare un sacco di cose. La cosa più interessante è potete scegliere il tipo di cabinet e ci sono 8, 9, forse così, nessuno. Non si sa bene cosa sia. Ah no, queste sono le maniglie. Quindi in realtà non è il tipo di cabinet, ma il modello della maniglia. Quindi, modello 1, vedete che compare una maniglia fatta così, vedete? Quindi la vediamo. La handle, e qui ci sono tutte le caratteristiche della maniglia, quindi potete spostarla, potete abbassarla, quindi metterla dove volete, e qui ci sono un sacco di cose anche che potete controllare. Comunque maniglia, rimaniamo, modello 2, la maniglia è fatta in quel modo che adesso è spostata. Tra l'altro vedete che quando abbiamo questo, secondo me, possiamo cliccarlo, selezionarlo, e poi, no, no, quindi, non è così, quindi bisogna spostarla nel modo classico, solo che a questo punto abbiamo perso. Ecco, una volta che avete perso la finestra magica, siete persi, siete persi, e quindi conviene piuttosto che litigare con questi mobiletti, se per caso arrivate a questa situazione, fare direttamente l'oggetto, quindi selezionate il vostro oggetto, in qualche modo, adesso io seleziono tutto, e lo rimettete che fate prima. Quindi facciamo aggiungi, mesh, siamo sempre il cabinet, quindi questo, ah, e si è conservato però la, vabbè, allora lo rimettete qua, quindi controllate questo, e controllate la posizione, sì, in realtà non ha funzionato molto perché lui si ricorda le ultime impostazioni che avete messo, quindi, se voi create n volte, lui continua a usare l'ultima opzione, e poi ci sono tutti gli altri modelli che adesso non vi tedio, ma anche qua, in realtà, se andiamo poi qua e poi facciamo R, vedete che abbiamo la stessa, la stesso concetto della finestra, quindi possiamo aprire le porte, le porte del, del cabinet, del, come si chiama questo, il mobiletto, ecco, diciamo che si chiama mobiletto, magari tra un po' lo vediamo anche in una stanzina, ora siamo forse arrivati giusti per vedere proprio una stanza, quindi facciamo di nuovo il, di via chiara, no, come si aprono e si chiudono queste porte, cioè queste porticelle di questi oggetti, cancelliamo la cosa e partiamo, partiamo adesso con la stanzina, la room, la stanza, allora, per avere la room, allora, innanzitutto, facciamo, sapete, no, come si fa a, snappare, cioè praticamente da mettere il cursore al centro, ok, così siamo sicuri di partire dall'inizio, vedete, questa riga verde e questa riga rossa sono gli assi cartesiani, no, di base, e quindi conviene sempre, ah, questo non lo so, non ho guardato se c'è la cosa dall'alto al basso, ma tenete conto che comunque potete in ogni caso, cioè quello è quello che vi fa lui, ma una volta che ce l'avete potete poi farlo ruotare voi anche in altri modi, talmente poi possiamo provare a fare una microprova per, però magari c'è già nelle opzioni, bisogna cercare. Si può disegnare la stanza, c'è un modo per disegnare la stanza che è quello che c'è, da qualche parte c'è room from draw, draw from top view. Magari lo vediamo fra un attimo, prima vediamo la modalità standard, la stanza dal disegno è molto impressionante, devo ammetterlo, ma proviamo a vederlo invece la modalità classica. Quindi, facciamo room, vedete che room, cosa succede? che ci fa vedere sostanzialmente un muro che purtroppo il default è che lo spessore zero, che mi sembra un pochino ridicolo, quindi mettiamo zero punto almeno qualche centimetro, ok? Quindi almeno cinque centimetri, adesso qui in realtà non sono in centimetri, ma più o meno l'avete capito, e poi qui c'è tutto il giro, che più o meno ho fatto vedere nel coso. Quindi possiamo fare, quando mettete una room, gli mettete il numero di muri, e poi il primo muro gli dite quanti metri, mettiamo quattro metri, e poi gli mettete qua e gli aggiungete e gli dite magari di fare anche il pavimento. Allora, il pavimento vedete che lui comincia a fare il pavimento, ma la cosa interessante, non so se avete notato che mette anche il, come si chiama questo? Non mi viene. Lo zoccoletto. Ecco, questa è una cosa interessante. O battiscopa. Sì. Allora, abbiamo fatto quindi quattro metri, la lunghezza lì la facciamo magari cinque. vedete che essendo, vengono già quasi colorati, questo perché siamo in Cycle Sender. e andiamo, tra l'altro il battiscopa quella cosa, ecco, questo battiscopa è questo qui, il baseboard, quindi se non lo vogliamo lo clicchiamo e lo togliamo. E qui possiamo controllare la larghezza e l'altezza del battiscopa. Poi c'è anche questo che permette di mettere un cover che però forse lo mette sull'esterno. Fa una cosa... Vabbè, accontentiamoci di questa cosa qua. Andiamo e mettiamo un terzo muro e il muro vedete che adesso vi andiamo in una direzione opposta quindi ricordiamoci di mettere una lunghezza del muro negativa. Quindi questo muro dovrebbe essere meno 4 e poi abbiamo l'ultimo muro che chiude tutto. Allora, o si dice di chiudere i muri con closed walls quindi l'ultimo muro ve lo chiude lui oppure si crea un muro insomma comunque così diciamo già crea la stanza. Allora, una volta costruita la stanza rimane il problema a parte che dato nel video vi ho fatto vedere come si faceva una parete curva la volete che ve lo faccia vedere anche qua oppure abbastanza quanto vi interessa avere le pareti curve comunque nel caso basta ecco vediamo ecco una cosa un problemino di Archimesh è che voi a questo punto avete un sacco di pareti ma non sapete qual è la parete 1 parete 2 parete 3 e parete 4 c'è un modo per dirgli Archimesh vediamo se lo trovo di mostrare dei suggerimenti hints non so se qualcuno di voi l'ha premuto facendo il progetto queste sono molto interessanti perché facendo show compaiono tutta una serie di informazioncine che sono interessanti quindi ci dice quante sono le dimensioni quindi qui potete potete avere le misure averle o non averle e i nomi o non averle i nomi sono interessanti perché a questo punto sapete che questo qui è il muro 3 e il muro 3 sostanzialmente è che questo se vogliamo farlo tondo andiamo qui avanzate e qui abbiamo la possibilità di mettere che è curvo e quando è curvo possiamo anche controllare il fattore di curvatura quindi se qui invece che 1 lo riduciamo possiamo farlo meno pronunciato e qui fa vedere tutte le distanze insomma di questi muri quindi nel video ho fatto vedere come bucare con le porte e le finestre ok però magari prima di fare di bucare con le porte e finestre possiamo provare a vedere quel discorso del draw della stanza vediamo un po' se riusciamo a fare un draw cosa che io non riesco a fare cosa? le misure? ah bucare ok però prima di bucare facciamo un attimo una cosa così nel senso che qui facciamo x dove? niente cancello ok quindi cancelliamo questa cosa facciamo x e proviamo a vedere quel concetto del draw quindi con la matita allora praticamente per poter disegnare con la matita occorre vedere dall'alto che è il modo naturale di progettare una casa si progetta dall'alto e poi si sostanzialmente si deve disegnare allora disegnare in blender si fa con se non ho errato con la D quindi se io premo D aspetta D e poi e poi clicco col tasto sinistro del mouse vedete che mi compare posso anche scrivere delle scritte quindi sono varie cose che scrivo e lo schizzo si schizzo adesso tra l'altro scritto in bianco così è un po' è un po' bruttino nel senso che si vede male no? in realtà bisognerebbe andare qui dove c'è la matita vediamo un po' matita qui si controlla la matita ah no non è qua che puoi vedere il colore con quei disegni forse è sulla destra ecco il tratto che adesso è nero e gli si può dire di disegnare in un altro colore ad esempio si può dire che possiamo dipingere in bianco oppure in grigio oppure in un colore che volete voi per esempio giallo che si vede chiaramente no? no è venuto così allora tra l'altro la matita qui vi insegno anche un po' la matita qui abbiamo disegna che era il D disegna mano libero se no se cliccate con cancella cancella praticamente vi permette di cancellare proprio le cose che avete fatto quindi proprio come fosse una una adesso per qualche motivo è molto lento ma voi capite adesso sto cancellando queste cose ora andiamo invece a disegnare una stanza quindi disegnare una stanza voglio farla per dire 4 per 5 per dire allora faccio disegno faccio 4 2 4 5 poi faccio così poi chissà se lo capisce se lo faccio un tondo così e poi vediamo un attimo se ha capito quello che voglio fare gli ho detto di fare una stanza e qui abbiamo room from draw quindi diciamo che vogliamo il pavimento facciamo room from draw e lui vedete che non ha capito il tondo quindi è stato un esperimento però vedete che ha cercato di seguire con scarsi risultati devo dire vi facciamo ctrl z ctrl z vi facciamolo un po' più chiaro quindi di allora andiamo la matita disegna e poi facciamo 2 3 4 2 4 5 3 4 ecco possiamo anche dirgli di nel crea possiamo dirgli di pencil tools di fare il pavimento e di chiudere le mura e room from draw diciamo che non è stato molto molto precisissimo questa cosa qua non ha capito perfettamente e ma intanto avrebbe dovuto chiudere a lui comunque lo chiudiamo di nuovo ripetiamo per l'ennesima volta proviamo a tutti insomma quindi matita legna dunque 2 4 vediamo un po' se riesco a essere precisa 2 4 5 2 4 ed è che ormai da ok e poi andiamo su crea e facciamo ma cominciamo a fare room for draw ok ma se lo facciamo così sembra funzionare benino e gli mettiamo anche il pavimento e dobbiamo farlo prima forse fargli mettere il pavimento quindi facciamo z pavimento room for draw ok e così c'è messo anche il pavimento ok quindi abbiamo abbiamo la nostra stanza quindi costruita con un sistema ancora alternativo che però come avete notato non sembra capire molto le parti curve allora una volta fatto questo vediamo un attimo supponiamo che questa sia la stanza purtroppo facendo così mi sa che non ha seleziono lui l'oggetto room ah si posso controllare lo spessore quindi posso mettere uno spessore quindi 0.05 e ritorniamo più o meno al livello in cui eravamo prima adesso cominciamo a cercare di bucare questa cosa con le porte quindi cominciamo a metterci una porta quindi come facciamo? andiamo su il lato dove vogliamo mettere la porta e clicchiamo col mouse e andiamo a dirgli di mettere la porta quindi facciamo door quindi door vedete che purtroppo la porta qui non era quella che volevo perché è girata nella parte sbagliata però non c'è un grosso problema perché bisogna andare a vedere qui dove c'è la door tra l'altro qui ci sta dicendo di guardare a destra dobbiamo ruotarla quindi sostanzialmente da qualche parte nella porta c'è una rotazione e possiamo mettere tipo 90 gradi e abbiamo una porta che si è ruotata di questo fattore qua allora anche la porta ha la stessa struttura della della finestra e vedete che c'è anche lui andiamo in basso vediamo che c'è un control hole associato alla porta e questo control hole è sostanzialmente la parte che scava scaverebbe la porta quando si buca la parete però prima di bucare per vedere se funziona clicchiamo tasto destro ruotiamo e vedete che non si non si la porta è murata vi ho detto quindi per capire se stiamo facendo bene o male dobbiamo bucare la parete per bucare la parete bisogna selezionare il muro quindi la room e poi quando siamo sul crea di Archimesh si dice auto holes quindi se facciamo auto holes vedete che genera automaticamente il foro non so se è chiaro questo giro il foramento l'unico problema di questo di questo auto hole che è un po' instabile nel senso che se voi continuate a lavorare almeno a me succedeva che facendo altre finestre eccetera mi si chiudeva di nuovo la porta in realtà arrivati a un certo punto a un certo livello vedete che la room ha questo quando vedete sulla struttura la struttura outliner vedete che alcuni della stanza su cui state lavorando alcuni degli oggetti della stanza ha dei modificatori associati e vuol dire che potenzialmente se volete però questo è meglio farlo un po' verso la fine quindi tenete tutto in questa fase qua ma prima ad esempio di esportare in Sketchfab occorrerà poi applicare i modificatori quindi noi adesso per dire possiamo mettere una finestra qua nella parte opposta quindi selezioniamo più o meno dove vogliamo la finestra e facciamo la tecnica che vi ho visto prima quindi aggiungi mesh archi mesh e andiamo rail window anche qui abbiamo la solita finestra non messa bene facciamo rotazione 90 oppure rotazione meno 90 vediamo quale sembra meglio meno 90 ah non si può fare la rotazione meno 90 quindi bisogna fare 270 quindi scegliete la rotazione più adeguate e a questo punto abbiamo lo stesso discorso di prima quindi mettiamo la tulip prendiamo l'anta l'apriamo vedete che qua bisogna fare no aspetta facciamo così e facciamo R ok quindi vedete che per aprirla bene bisogna essere messi bene quindi apriamo quella poi apriamo questa R apriamo questa vedete che questa cosa è murata quindi qui stessa cosa per tagliare i muri occorre selezionare la 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 stanza nel suo nel suo insieme e poi ancora fare auto holes quindi auto buca e questo appunto vedete che si apre anche la finestra quindi così vedete che siamo riusciti ad aprire sia la finestra che la porta tutto chiaro come sistema sempre che non mi faccia scherzi questo video lo registriamo e adesso andiamo a metterci di nuovo i mobiletti come abbiamo visto prima quindi vogliamo mettere dei mobiletti qua quindi quindi clicchiamo e potremmo farlo con aggiungi sempre qua cabinet oppure da qua c'è proprio cabinet quindi lì possiamo mettere ecco ce l'ha messo nella parte nella parte opposta quindi lo secondo lui questa cosa qua è fatta rovescia non so se c'è un modo per dirgli di farlo sporgere dall'altra parte credo tra l'altro qualcuno di voi aveva fatto l'aggiunta di una stanza giusto? è presente chi aveva fatto l'aggiunta della stanza? dobbiamo aggiungere un qua un elemento perché l'ha aggiunto? forse dipende da come si seleziona Giorgio non so bene come abbia fatto comunque io non l'ho ancora provato a fare più stanze ma credo che bisogna cliccare in un punto e poi fare ah sì bisognerà probabilmente muovere e mettere insomma i muri centrati in qualche modo comunque chiederemo il buco avete notato che si è chiuso si sono chiusi il di nuovo quindi bisogna confermargli ok questo fatto qua che si è messo fuori della stanza adesso facciamo un attimo un control Z ok credo che dipende da dove si clicchi perché ad esempio qua se io lo clicco qua e poi faccio shift A mesh vediamo un po' se me lo mette buono cabinet lo mette giusto se io clicco qua faccio shift A mesh archimesh cabinet e lo mette fuori effettivamente quindi forse bisognerà dirgli di questo una rotazione proviamo a vedere profondità spessore ci sarà la rotazione rotazione predefinita se facciamo 180 ecco probabilmente la rotazione vedete che facendo 180 in realtà va nella direzione giusta quindi questa ce la siamo scampata e una cosa interessante è che tra l'altro avete notato che ha conservato l'ultimo l'ultimo impostazione no a mano è un po' è un po' un contorto perché bisogna selezionare tutti gli oggetti invece così fa lui in pratica con la rotazione e poi qui potete controllare la larghezza e anche il numero di elementi che ha insomma qui mi sembra che ci sia shelves sono quanti scaffali quindi ah no quello là che controlla invece il questo è il cabinet non riesco a fargli fare le varie cose però dunque se clicco questo sì anche se non so se questo posso poi alterare la ah single dorsum questo è un mobiletto con due con i con i vetri insomma poi si può vedere cose qui si può controllare tutte le cose numero di mobiletti qui ci sono qui ci sono i modelli delle maniglie profondità quindi era troppo mettiamola più a dire così la handle gli mettiamo un altro modello questi qui sono fatti così tipo pavimento piuttosto che muro vedete che lo mette come pensile come vi avevo detto prima e qui vale anche il concetto vedete qui dove ci sono queste questi trattini queste righe a trattini vuol dire che quello potenzialmente si può aprire ah ecco io ho messo il numero di canti adesso non lascia più fare che non vedevo da fuori perché era chiusa ora altre cose che si possono aggiungere che alcuni di voi hanno fatto sono per esempio delle lampadine anche mi sembra che ci sono c'è la possibilità di mettere degli scaffali ecco questo può essere interessante nel senso che si clicca sempre lì e si mettono degli scaffali qui vale quanto detto prima nel senso che lo scaffale shells ci sarà l'angolo da qualche parte per provare l'angolo l'ombra di units ci deve essere non lo trovo e se faccio r niente r z vabbè gira r 180 però mi sarei aspettato che ci fosse che ci fosse prima la cosa e questo signore possiamo poi mettergli dentro anche dei libri come ha fatto qualcuno nel senso che qui abbiamo tra le altre opzioni abbiamo i libri quindi clicchiamo apriamo qua facciamo box ho generato una serie di libri qua che poi possono anche questi essere messi ah sono rovesci anche questi contro z adesso non non vi faccio vedere ma dovrebbe essere possibile poi infilare mi sono perso contro z questa parete è storta evidentemente quindi qui ci sono i qui potete dire quanti libri ci sono la casualità con cui sono messi ah la rotazione ecco qua quindi facciamo 180 ecco vengono dritti e poi dovrebbe poter metterli in qualche modo non riesco a spostare forse bisogna selezionarli comunque in qualche modo selezionandoli si dovrebbe poter ah qui sono i libri qua quindi potete selezionarli tutti qua sulla destra e poi li potete allineare non so se a Nia va trovato il modo per mettere le dimensioni del testo e qui cosa fa genera probabilmente dei testi dei testi fittizi dunque qua i i i letti non ci sono quindi devi costruirli effettivamente può darsi che negli altri ci siano altri pacchetti con dei letti comunque si dovete costruirli beh però il letto non dovrebbe essere una cosa estremamente difficile da fare o da trovare anche in giro sapete che potete anche mettere sostanzialmente delle cose che trovate in giro devo fare un attimo una ok allora queste più o meno sono le basi per intanto avete che mi ha chiuso tutte Archimation sostanzialmente è un prodotto che costruisce quelle cose che abbiamo visto quindi sostanzialmente le stanze fa anche delle colonne quindi in alcuni casi è interessante anche questo discorso nel senso che si possono mettere in posizioni strategiche un impianto colonnatico questo qua ho visto in alcuni casi viene usato per per poi fare anche dei pezzi di arredamento interno la colonna anche questa credo che abbia poi delle caratteristiche che si possono fare comunque sostanzialmente ci abbiamo delle colonne possiamo mettere delle lampade anche le lampade sono ci sono diversi tipologie di lampade so che appena si sposta non si riesce più a manovrarla quindi rifacciamo questa quindi le lampade sono questa lampada base e qui ci sono detto che si può fare la lampada ma forse ho fatto vedere anche nel video che ci sono le varie tipologie fatta pera fatta vaso insomma potete controllare tutta una serie di impostazioni ci sono le persiane le veneziane che potete mettere vicino a una finestra o qualunque altro posto quindi per dire se lo mettiamo qua poi facciamo venetian blinds quindi ci sono queste veneziane e queste veneziane sono quelle classiche con il filo che hanno le loro caratteristiche ah in questo caso le veneziane le guardate sulla destra e qui potete controllare l'angolo con cui si stanno chiudendo l'altezza avete alte e basse insomma potete fare un po' di cose e ci sono anche i separati giapponesi e qualche altra cosa insomma non fa non fa miracoli come come sistema però sicuramente permette anche a chi non ha un'esperienza incredibile di modellazione di poter già produrre un qualche cosa che se no potrebbe rischiare di impiegarci delle settimane con tutti i suoi difetti anche perché qualcuno di voi magari provandosi si è scontrato con questi problemosi questi difetti che abbiamo visto quindi poi alla fine dovete dovete attrezzarvi voi per per cercare di risolverli senza impazzire e togliamo la e ritogliamo questa cosa togliamo la lampada qui c'erano i libri che avremmo dovuto spostarli prima conviene forse selezionarli da destra mettiamo dentro così sono appoggiati un pochino meglio leggermente meglio ok allora proviamo a vedere come spostare questa brutturia che ho fatto insomma su SketchUp prima però ci accertiamo di fare quel passaggio che avevamo accennato prima quindi i passaggi erano innanzitutto riapplichiamo il taglio quindi andiamo di nuovo su auto call così diventa tutto a posto poi dicevamo dobbiamo applicare tutte le varie quindi andare qua cercare quali sono i modificatori quindi vedete che qui ci sono vari modificatori sulla vediamo un po' se riusciamo a trovarli ok qui c'è un modificatore solidifica e un booleano la stanza quindi mentre siamo in modalità oggetto facciamo applica applica e applica e così questo è a posto qui c'è ancora dei modificatori che applichiamo quindi facciamo applica quindi vedete che è importantissimo questa vista qua perché ci fa vedere che adesso non abbiamo più modificatori da applicare quindi li abbiamo applicati tutti e l'altra cosa che avevo notato che bisogna fare è togliere i control hole quindi seleziono questo control hole e poi faccio x se faccio no qui seleziono cancella e poi mi sembra che ci sia un altro no la porta door group i motivi ecco control baseboard e control hole quindi seleziono questi tasto destro cancella quindi vedete che ho cancellato tutti i control che trovo perché quei control sono quelli che danno fastidio in Sketchfab ok poi proviamo ancora per ultimo a salvare questa scena quindi prendiamo questo oggetto qua questo file punto blend e facciamo file esporta no anzi file salva salva come se lo salviamo e questo lo chiamiamo stanza video magari lo mettiamo vabbè stanza video poi lo ritracciamo dopo dopo senza video plan sotto download salviamo e proviamo ad andare adesso in Sketchfab ok facciamo un bel upload cerchiamo il file e abbiamo stanza video punto blend facciamo l'upload di questo oggetto continuo faccio qualcosa al computer mio per cui voi vi sentite ancora? bene perché secondo me sta qualche problemuccio il tutto quindi facciamo continuo aspettiamo che Sketchfab ce lo carichi o là ok a parte le texture che che sono un attimo discutibili mi sembra che ah no abbiamo anche questo pezzo qua quindi probabilmente dovevamo abbiamo dimenticato di cancellare un contro sulla finestra però sostanzialmente abbiamo il nostro a parte la finestra che è molto male quindi dovremmo tornare e controllare che abbiamo tolto effettivamente questa cosa qua il concetto questo qui è questo come vi sembra fin qua? non pensiamo che non ho ancora provato a fare le cose questo in teoria dovrebbe essere delle mesh standard quindi che dovrebbe poter ottenere lo stesso risultato anche in open sim bisognerà probabilmente fare un po' di attenzione a qualche cosa ma dunque per chi diceva che si trova meglio a costruire senza tutte queste cose qua sicuramente sì ma per chi sta iniziando ad esempio o comunque che non ha non riesce a costruire velocemente questa cosa qua può essere un punto di partenza per fare alcune cose ad esempio per costruzioni moderne mettersi a fare le maniglie tutte le volte può essere eccessivo comunque visto che già alcuni di voi magari perdendoci comunque un po' di tempo hanno fatto già delle cose notevoli io direi adesso che per la prossima settimana ci fermiamo ancora un po' qua e cerchiamo proprio di risolvere e di definire bene questi discorsi o comunque un pochino di più approfondiamo un pochino la texturizzazione e l'import in open sim sì beh adesso la Sketchfab fa questi effetti qua perché essenzialmente ha un'illuminazione metallica sì certo voi potete prendere Archimesh è quello che dicevo prima Archimesh vi può fare una finestrella oppure un pezzettino un particolare e poi quello lo copiate e lo mettete su su un altro blender cioè a tutti gli effetti quando andate in blender siete dovete solo poi selezionare il pezzo giusto quindi se noi selezioniamo la maniglia vedete avvicino e vado in modifica vedete che la maniglia a tutti gli effetti è un è un insieme di punti di vertici esattamente non c'è niente di diverso è praticamente uguale come se l'aveste modellata voi poi adesso non abbiamo tempo stasera ma c'è la possibilità di prendere dei pezzi da un blend all'altro magari se volete vi faccio poi vedere un video dove vi faccio un video sulla pend e questo può essere molto interessante perché così ad esempio se voi avete potete farvi un punto blend con degli oggetti che poi da qui potete pescare senza doverli rifare tutte le volte e senza fare stranezze semplicemente si aprono comunque non c'è nulla di particolare basta andare in file e poi c'è il dove è eccolo qua collega e incorpora dunque sarebbe incorpora non fa libreria però probabilmente bisogna essere in object mode quindi se voi fate file incorpora shift f1 potete aprire un altro file punto blend qualunque comunque se se hai cancellato gli holes nella gabbia e poi dopo c'è semplicemente l'oggetto non puoi fare non puoi beh puoi fare in realtà poi alla fine gli oggetti sono normali quindi puoi fare anche tu un un boolean sì sì solo che devi farlo a mano non puoi cliccare un tastino e non te lo fa lui automaticamente anche se abbiamo visto che quello automaticamente non è che sia comunque quello che volevo farvi vedere sull'import è questo che voi potete andare in un altro punto blend qualunque qui c'è testa di cavallo andate su mercato semesh e qui c'è il vostro un qualche cosa che magari qui avete magari dato un nome espressivo che non sia cube e quindi quando fate incorpora la libreria lui dovrebbe inserire l'oggetto che avete preso adesso qui tra l'altro c'è il mio computer che non collabora e quindi non non riusciamo a fare niente avrei voluto farvi vedere anche un paio di altre cosettine sul su come triangolare gli oggetti ma sostanzialmente non riesco a muovere molto il mouse quindi sospenderei per adesso e vediamo poi di farlo nelle prossime lezioni altre domandine avete? allora se va tutto bene io farei leggermente più corda quindi invece che un'ora e venti come al solito sospenderei che secondo me non va avanti perché non c'è spazio su disco quindi più andiamo avanti più mi si riempie il disco e noi allora ci rivediamo su facebook e su la prossima lezione sarà se va tutto bene il giovedì prossimo buonasera a tutti salve